Il senatore Romeo ha chiesto di modificare il calendario attraverso la vocazione della mozione di sfiducia al governo domani 14 agosto alle ore 16. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, chi chiudiamo le porte, dichiaro aperta la votazione. Chi è favorevole, dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Il senatore Larussa ha chiesto di modificare il calendario dei lavori attraverso la votazione di tutte le mozioni di sfiducia insieme alle comunicazioni del Presidente del Consiglio al prossimo ordine del giorno dei lavori. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la riprova. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il senatore non approva. Le mozioni, le interpellanze pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B, a risolvere.